Ma la questione di Pesaro è una questione squisitamente politica, è l'avvio della campagna elettorale per le regionali. Il centrodestra dopo aver perso, straperso a Pesaro e a Vallefoglia, appena è uscita la candidatura di Matteo Ricci come uno possibile candidato del centrosinistra, gli ha preso una FIFA della Madonna, diciamo così, nel senso che hanno cominciato a capire che la regione Marche potrebbe essere contesa dal centrosinistra, con quella candidatura, tutta una canea sul nulla dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'azione dell'amministratura farà il suo corso, se qualcuno ha fatto qualcosa che non va bene, voglio dire, pagherà come in tutte le vicende, del resto i magistrati devono fare liberamente e autonomamente il loro mestiere. La vicenda è una vicenda però squisitamente politica, da uno che crede un po' di politica di conoscerla. Voglio dire, adesso si tratta di vedere come andranno le due regioni del Sivota, e cioè in Emilia Romagna e in Umbria, però le Marche con quella ipotesi di candidatura potrebbero essere contendibili. Quindi calma e gesso, voglio dire, lasciamo fare il lavoro all'amministratura e per il resto noi ragioniamo di questioni politiche rilevanti. Devo dire che io, che sono uno di quelli che ha un ottimo rapporto con la Giunta regionale, faccio fatica a portare a casa molti risultati, penso le politiche sul lavoro, le politiche sanitarie. Ho apprezzato per esempio l'impegno sulle ciclo pedonali che erano, diciamo, della precedente amministrazione, portata avanti da questa amministrazione, e sul BRT, e ho anche ringraziato, perché quello che è giusto mi pare che si debba fare. Penso che bisogna ritornare alla tranquillità, alla serenità, e poi chi ha più filo lo tesse al momento in cui l'ottobre prossimo, mi pare, sarà la scadenza delle prossime regionali.